Una squadra incredibile, ecco qua, portiere, attaccante, attaccante, in senato dove giochi stasera? Io ci la so, nella faccia, nella faccia, portiere, se non è finita la storia, lo dico. Andiamo, andiamo, andiamo a vincere, andiamo, andiamo, andiamo a vincere, andiamo a vincere. Oh my god, ingresivo, c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, veramente, com'è. Signore, ce la dobbiamo a prendere, signore. Ce la dobbiamo a prendere? vuole sapere dell'impeachment che cosa ne pensi mattarella si mattarella no non può fisca ma ci vediamo se è un'ecopa di Antonio ma non è cotto ma non è cotto ma non è cotto ma non è cotto non è cotto se non c'è la gente dice che sono scemo se non c'è la gente vuole sapere uno loro motiviamo dai dai ragazzi vai vai c'è niente di cazzo a correre forza e per il sorriso vim vim urrà vim vim urrà vim vim urrà Gianni Morango pochi sanno che Gianni è il papà di Zanetti papà abbiamo abbracciato abbiamo abbracciato abbiamo abbracciato abbiamo abbracciato tanto tempo ciao vi ha per stare e lascia anche questo ragazzo qua è una brutta sfida tra i numeri 10 però per il rispetto rispetto prima di tu che casuno c'è Francesco è un onore stai scempa ah questo non me l'aspettavo vai gli avversari io lascio anche questo ragazzo no abbracciate ma abbracciate ma adesso è arrivato scemo no vieni cazzo abbracciate ma 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 è bellissimo stare tra tutti Cassano e Polosetti Paolo hai visto come si gioca a calcio o no? no vambaste no vambaste sculi rai che fai che fai che fai che fai che fai che fai Paolo no vambi no vambi no vambi no vambi no vambi no vambi